Oggi vediamo come realizzare una serra, questo è il primo di una serie di video perché è un progetto molto complesso. Oggi vediamo intanto come andare ad approntare l'hardware e che hardware è necessario. Vedremo in questa prima parte semplicemente come aggiungere delle lampade per andare a fornire la luce quando necessario alla piantina. Aggiungeremo poi vari pezzi come una ventilazione, un controllo per l'umidità, un riscaldamento per rendere la serra veramente autonoma. Iniziamo subito. Da un po' di tempo ho qualche problema con le mie piantine di basilico, che purtroppo mi muoiono dopo poco tempo perché in inverno fa freddo e non c'è luce. Quindi ho cercato di risolvere il problema costruendo una mini serra per aiutare il basilico a crescere anche in inverno. È un progetto molto complesso e quindi vedremo varie parti. Oggi vedremo la parte di illuminazione, intanto l'hardware. Quindi ho visto su internet che vendono delle lampade a raggi ultravioletti infrarossi per far crescere le piantine. Non vengono propriamente usate per il basilico, però va benissimo anche per il basilico. Mi sono procurato una di queste piccole lampade. Queste lampade funzionano a 220 volt. Quindi per attivarla serve anche un relè. Quindi ho comprato un gruppo di relè come questi, con quattro relè. Queste li alimentate con GND 5 volt e poi date semplicemente segnale digitale per farli scattare. Vediamo intanto l'hardware. Con un Arduino Uno sono andato a collegare il gruppo di relè. Inizio a disegnarli qua. Questo qui è il primo relè. I relè, come avete visto, hanno un pin che serve per l'alimentazione, quindi 5 volt. Lo collegate sul 5 volt dell'Arduino. Hanno poi un pin per il ground, anche qua deve essere in comune con l'Arduino. E poi avete vari pin digitali per controllarli. Per il controllo della lampada io ho preso il pin numero 3. Quindi dal Arduino parte un jumper e va a finire sul primo relè. Il relè qui ha un contatto centrale, che è indicato come COM, e poi altri due contatti, uno NC e uno NO. Quindi NC sta per normalmente chiuso, NO per normalmente open. Qui ho la mia lampada a LED. Questa funziona a 220. Esce un cavo. Attenzione perché lavoriamo con la tensione di rete che è molto pericolosa. Quindi questa può produrre la luce molto forte. E la metteremo sopra alla nostra piantina, che vogliamo aiutare a crescere. Il collegamento va fatto in questo modo. Avrete da qualche parte una spina per la 220. Avrete un primo filo che portate sulla lampada. Dalla lampada esce un secondo filo. Questo secondo filo lo portate sul comune del relè. Poi prendete il contatto normalmente aperto e lo portate alla spina. In questo modo non c'è passaggio di corrente. Quando attivate il relè questo scatta sul normalmente aperto, quindi lo chiude e fa accendere i LED. Attenzione c'è anche una messa a terra qui collegatela nella vostra spina. Fate molta attenzione con questi collegamenti. Ci serve poi, per far funzionare il tutto, un display OLED i2C che collegheremo appunto via i2C. Quindi anche lui avrà il ground i5V e lo collegheremo ad Arduino usando il pin A4 A5 per l'i2C. Quindi l'SDA e l'SCL. Quindi l'SDA è la 4, l'SCL è la 5. Mi serve anche un clock real time, quindi un RTC clock. Anche lui funziona via i2C, quindi ha l'alimentazione e il ground a 5V. Poi lo dovete andare a collegare al bus i2C. Ho utilizzato un DS1307, quindi DS1307. Per finire mi serviva un sensore per la luminosità. Quindi ho usato una semplicissima fotoresistenza che collego con un partitore. Ha una resistenza da 10K. Qui ho i5V. Questa la porto sul pin A0 di Arduino. Perché è tutta questa complicazione? Allora, io voglio che nelle 24 ore la mia lampada si accenda secondo i cicli naturali del basilico. Il basilico vuole un bel po' di ore di luce in estate. Quindi in estate presuppongo che dalle ore 6 fino alle ore 20 ci sia luce. E quindi faccio in modo che dalle 6 alle 20 la lampada sia accesa anche in inverno. Quindi questa è un'informazione che mi viene data dal RTC clock che mi dà l'ora e minuti. Quindi io controllo periodicamente l'RTC clock quando vedo che sono le 6 dico ok accendo la lampada. Però non voglio accendere la lampada inutilmente perché è vero che in inverno c'è più buio ma ci sono dei giorni in cui c'è il sole. Quindi se per caso il sole che mi entra dalla finestra è sufficiente e quindi lo rilevo con la mia fotoresistenza spegnerò la lampada. Per esempio se mi accorgo che a un certo punto le nuvole vanno via e c'è abbastanza sole spengo per un certo periodo di tempo la lampada per risparmiare energia. Quindi questo è quello che faremo. Scriviamo il codice minimo per far funzionare la lampada della nostra serra. Quindi senza nessun abbellimento senza gestire per esempio il display che vedremo di aggiungere un'altra volta. La parte più diciamo complicata è aggiungere l'RTC che richiede la libreria Wire per l'I2C e una RTC Lib. Questa RTC Lib dipende dal tipo di modello. La potete aggiungere facendo Sketch Include Library, Manage Library. Andate a cercarvi la libreria adatta. Quindi mettiamo RTC Lib. Questa dipende ovviamente dal tipo di dispositivo che avete installato. Quello che ho comprato io su Amazon funziona con la RTC Lib di Nero perché è un DS1307. Installate la libreria e siete pronti per proseguire. Questa libreria posso creare un oggetto DS1307RTC. Lo vado a inizializzare con un RTC.begin. Nel caso non sia mai stato utilizzato è necessario verificare se appunto è diciamo vergine. Quindi lo faccio con RTC.isRunning. Questo mi ritorna un boolean, quindi true false. E nel caso è false dovrei fare il set dell'ora. L'RTC.begin solitamente lo vedete in questa forma. Racchiuso da un if, verifica se il nostro clock è partito oppure no, se non è per esempio collegato in modo corretto si blocca tutto. Quindi qui metto un return e il codice termina. Allora invece per la parte RTC.isRunning anche qui abbiamo un if. Gli metto un punto esclamativo appunto per intercettare la condizione di errore. Quindi se mi torna false. Quindi se torna false entro qui dentro. Qui dentro lo configurerò con RTC.ajust passandogli un oggetto DateTime che si prende la data corrente. Quindi potete mettergli l'anno, mese, giorno, ora eccetera eccetera. Oppure se siete un po' più furbi utilizzate due costanti predefinite all'interno di Arduino, dell'ambiente di sviluppo. Sono underscore, underscore date e time che prendono la data di compilazione dello sketch. Quindi praticamente la data corrente del PC e la impostano nel vostro dispositivo. La lampada LED la controlleremo con un relay. Uso una costante, faccio define, pin, lamp e metto il numero 3. Nella parte di setup vado a configurare anche il pin. Quindi ci mettiamo subito dopo il setup del clock, faccio pin, mode, faccio pin, underscore, lamp e dico che è un output. Nel loop preferisco non continuare a leggere orologi e sensori di luce per decidere cosa fare. E creo quello che potrebbe assomigliare a una specie di timer. È un sistema che abbiamo già visto parecchie volte, abbiamo già utilizzato. Richiede la creazione di due variabili unsigned long. Ne chiamo uno T1 e l'altra DT1. Le metto così perché prevedo poi, man mano aggiungeremo i pezzi alla nostra serra, di aggiungere altri timer e quindi rendere la cosa un po' più complicata. Ma qui dentro nel loop allora creo questa specie di timer facendo DT1 uguale millis meno T1. DT1 mi tiene la differenza di tempo tra il tempo corrente che misuro con millis e T1 che inizialmente è 0. Queste variabili T registrano il numero di clock, il numero di millisecondi dell'accessione della scheda. Quindi appena vi ho il mio scheda saranno tutti due a zero e man mano cresceranno. Quando questa differenza, quindi il DT1, ha raggiunto un certo numero e metto 2000, cioè due secondi, allora vado a fare una serie di operazioni. Dobbiamo ricordarci però una volta che il timer è scattato di andare a reimpostare il valore per T1 in modo che possa continuare. Ok, ora qui dentro vado a attivare le operazioni che mi servono. Sono due le cose che farò. Uno è leggi luce, definisco una funzione e poi vado a crearla. E l'altro è leggi ora. Sulla base di queste operazioni temporizzate andrò ad applicare delle azioni. Quindi farò un digital write del pin lamp mettendolo in uno stato particolare. Lo stato lo chiamo lamp ed è una variabile che adesso andrò a definire. Ora, lamp la mettiamo qui sopra e creiamo una variabile di tipo booleano. Indica lo stato della lampada. Mi serviranno anche altre variabili, le creo subito qua. Ma mi serve una variabile che chiamo giorno, sempre di tipo booleano, che serve per farmi capire se è giorno oppure notte. Mi serviranno anche due variabili mm, h, che le chiamo così per salvare ore e minuti. E poi un'altra variabile di tipo intero che chiamo luce, 2 uguale a 0, e mi serve per salvare la soglia di luce letta dal mio sensore. Andiamo a scrivere le due funzioni. Intanto iniziamo con leggi ora. Leggi ora va a leggere il clock, quindi void leggi ora, aperta e chiusa grafica. Qui dentro per leggere il nostro clock faccio date time now e faccio rtc.now in modo da valorizzare questa variabile. Poi posso prendere l'ora facendo hh uguale now.hour e minuti con mm uguale now.minute. Qui dentro faremo un controllo per andare a valorizzare la variabile giorno, quindi decidere se è giorno oppure notte. Quindi se l'orario sarà entro certi termini, allora andremo a dire giorno uguale true, altrimenti metteremo giorno a false. Come faccio a fare questo controllo? Uso un if e lavoro semplicemente sull'ora. Se volete fare qualcosa di più preciso, abbiamo ricavato anche i minuti. Quindi diremo se hh, quindi le ore, sono maggiori o uguali di 6, quindi sono e se hh è minore di 22, considero giorno uguale true. Ora andiamo a preparare la funzione leggi luce. Void, leggi luce. Nella funzione leggi luce vado a leggere semplicemente con analog read il valore di a0 della nostra fotoresistenza. In base alla lettura e al fatto che se sia giorno oppure notte vado a accendere e spegnere la lampada impostando la variabile lamp che abbiamo creato prima. Potrei semplicemente leggere il sensore però, visto che è un valore molto variabile, conviene fare una cosa del genere. Faccio inti uguale 0, i minore di 10, i più più. Faccio un ciclo for che si ripete 10 volte e fa ben 10 letture. Le sommo tutte nella stessa variabile, quindi faccio luce analog read di a0. In questo modo vado a sommare una decina di valori, che sono tutti leggermente diversi appunto perché c'è il rumore legato alla lettura del sensore. Dopodiché faccio luce uguale luce diviso 10, cioè la divido per 10 e ottengo la media. Importante che questi due numeri siano gli stessi, ovviamente. Poi vado a rimappare questa variabile, faccio luce uguale, cioè map di luce che va da 0 a 1024. Lo riporto tra 0 e 100, ricavandomi una specie di percentuale. A questo punto faccio un ragionamento. Dico se è giorno, allora accendo la luce solo se è buio. Quindi dirò se luce è maggiore di una certa soglia, th luce, che non ho ancora creato, adesso andiamo a definire, farò qualcosa. Altrimenti se la nostra luce è minore di un'altra soglia, th underscore luce, andrò a cambiare lo stato della lampada. Allora ho messo due soglie perché usiamo l'isteresi. Questo qui è il livello di luce, il nostro livello di luce può variare, quindi a seconda delle condizioni del giorno, quindi può salire o scendere. Nel nostro primo if controlliamo se la luce che misuro è superiore a una certa soglia, th1, allora vado a spegnere la lampada. Per riaccenderla però non aspetto che scenda sotto questo valore, ma prendo un altro valore, th2, leggermente inferiore. Questo mi evita tutto lo sfarfallio che potrei avere appunto dato dalla lettura rumorosa. Nel nostro caso siamo abbastanza riparati da questi problemi perché leggiamo ogni due secondi e facciamo una media di 10 valori. Altrimenti vedreste la vostra lampada LED continuare a sfarfallare velocemente e potreste danneggiarla. Quindi diciamo se la luce è maggiore della soglia th1 luce, lampada la mettiamo uguale all'O, quindi la spegniamo perché c'è abbastanza luce. Altrimenti se la luce è poca la lampada la teniamo accesa. Accendo la lampada di giorno perché voglio che nell'arco delle ore che abbiamo definito come la giornata, se c'è poca luce intervenga la lampada per compensare. Non abbiamo definito le due soglie, quindi andiamo a crearle all'inizio dello sketch. Le mettiamo qui sotto. Io le ho verificate empiricamente, quindi anche voi fate un controllo, attivate il serial monitor con serial.begin9006 e andate a stampare quando fate la lettura qui sotto, serial.println di luce, in modo da vedere qual è il valore letto e poi andare a determinare in modo ottimale queste due soglie. Quindi questo è tutto quello che serve per un funzionamento minimale. Quindi il display non l'abbiamo ancora utilizzato e fa comunque funzionare la nostra serial. Come avete visto, niente di complicato. Fate attenzione soprattutto con la lampada LED perché è a 220, quindi state attenti a come collegate le cose e fatevi aiutare da qualcuno se non siete sicuri. Domani vedremo come migliorare il codice e far funzionare anche il display. Vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao!